Jamia Yamia 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 Skatenati 1-1 prima Chuck Samuele Viola Parlami di te Come ti chiami? Che fai qui? Dove sei nato? Sono Samuele Sono nato a Roma Ho 23 anni Sono Yaseminca sono nata a Roma sono bosniaca però sono nata qua a Roma mi chiamo Leonardo ho 16 anni vado a scuola a studiare per la terza media mentre non devo fare il meccanico sono Melinza ho 16 anni vengo da Romania vivo in Italia io mi chiamo Gabriele con il mio nome è Tovic vengo da Roma sono da Roma sono da Lenzio ho 15 anni vengo da Tivoli sono in comunità e sono da Romania 1-5 primo come ti sei trovato e ti stai trovando in questo laboratorio? boh niente voglio andare dentro il mondo del cinema non lo so boh essere un attore molto bravo bene bene scatenate 1-2-1 ciao qual'era secondo te la parte più interessante e quella più noiosa? la più interessante è quando due ragazzi si innamorano di una ragazza e quella più noiosa è quando un ragazzo se ne va in bagno perché non gli possono fare niente la più interessante è quella che mi fanno ridere la più interessante è quella più noiosa? oddio ancora niente di due ragazzi che si innamorano di una ragazza niente che mi noiavo la parte più noiosa è quando reciti la più noiosa non lo so non fare niente boh non lo so noiosa ancora niente? buongiorno ci faccio qui vengo a scuola ma la scuola è finita e devo fare la mia pena facciamo un film ai scatenati un cortometraggio per Alina secondo te che cosa serve a un buon attore per essere appunto un attore speciale? boh più ruoli più qualcosa del genere non lo so il coraggio niente niente devi sapere devi fare attore devi sapere fare la sceneggiatura bene 1-7 prima check Salvini come ti vedi tra 5 anni? qual è il tuo scopo nella vita? no aspettate essere essere un calciatore non lo so fare il chef qualcosa del genere a Dubai si può dirti stranzi il mio scopo? diventare famoso in Francia in Spagna in America in una isola da solo con la mia villa tutte le donne fare estetista minca casting scatenati 1-6 prima vuoi pronunciare la parola Italia al contrario? Italia Alitai vita I love you Alita non lo so non ci riesco aspetta non lo so dire ai la ti brava qual è l'ultimo film che hai visto? Transformers ti è piaciuto? si cosa ti è piaciuto? che fanno a botte dove tipo i robot non guardo il film sto solo su telefono Annabelle di Jack Spawn ti è piaciuto? si molto perché è un un attore famoso fa delle scene belle come dispaccio la famiglia ti è piaciuto? si perché ti è piaciuto? eh perché facendo questi traffici con l'erba state qua qual è la tua caratteristica più forte la cosa in cui sei più brava? cosa è? stare solo stare poi non fare niente questa non so dirtela non fare palestra nessuno non so non so le bargellette ok non ci si è stato Mattarella a dirci che non possiamo stare in Italia abbiamo macchine droga basta è l'Italia ok finiamo qui stop 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 bene è più è più infine più sf più 1 6